Elena Gioia e Giovanni Limata erano capaci di intendere e volere al momento dell'omicidio del geometra 53enne Aldo Gioia avvenuto la sera del 23 aprile 2021. La perizza del professore Giuseppe Schaudone è stata al centro della nuova udienza, particolarmente delicata e lunga e durata oltre due ore. La discussione sulla relazione effettuata dallo psichiatra di Napoli, nominato dalla Corte d'Assise del Tribunale di Avellino, è stata caratterizzata da una serie di domande rivolte dagli avvocati della difesa e delle parti civili. Al professore Giuseppe Schaudone, che ha esaminato anche le chat che i due fidanzati si sono scambiati, escludendo che si tratti di una follia a due, è stato chiesto se Limata abbia avuto una capacità manipolativa nei confronti di Elena, ma lo psichiatra l'ho escluso categoricamente. Schaudone inoltre definisce Elena una ragazza molto intelligente e se fosse stata problematica non avrebbe fatto i progressi che è fatto invece in carcere, dove si è diplomata ed ha iniziato anche a lavorare, inserendosi bene nel mondo carcerario. Elena ha precisato, mostra un forte stesse motivo ma non manifesta disturbi psicotici. Il perito, in Giovanni Limata, ha riscontrato un disturbo antisociale della personalità, con alle spalle una storia di importanti problematiche. Con lui Schaudone ha avuto due incontri, nel secondo ha provato a chiedergli a cosa avrebbe mai portato quel progetto che i due avevano studiato, ma non ha mai avuto una risposta. Lo psichiatra avrebbe voluto incontrare il giovane anche per una terza volta, ma poi ha desistito quando il ragazzo ha messo in pratica atti autolesionistici. La difesa di Elena Gioia ha anche chiesto se le dichiarazioni di Giovanni Limata, avvenute nel corso delle chat con l'amica Selina Nanni, mi sentivo un mostro, più colpivo e più mi piaceva, potessero in qualche modo confermare la presenza di un disturbo psicotico. Il consulente ha precisato che si è trattato di affermazioni dovute all'esaltazione del momento. Schaudone, in base all'analisi delle chat, ha infine descritto il rapporto tra i due ragazzi, segnato da momenti particolarmente significativi, che poi hanno condotto alla sera in cui veniva concordata la realizzazione del delitto.